Buon mercoledì 26 ottobre a tutti, sono le 10.38 e registro questa analisi un po' più tardi rispetto al solito perché ci sono tante cose da raccontarsi, tra cui per prima quella che sarò questa sera ospite alle 17.30 del social up and down e parleremo di Bitcoin e Ethereum. Quindi se siete interessati lascerò poi il link in descrizione e potrete ascoltarmi dal vivo parlare di che cosa può succedere appunto su queste criptovalute. Eccoci qua, ieri su Bitcoin mi avete sentito dire come siamo riusciti ad evitare di prendere una trona micidiale con uno short entro i tempi corretti in cui poteva avvenire una spike con candela rossa, oggi invece vi racconto un rammarico che ho. Ieri nel gruppo premium avevo preparato un bello short alle 11.38 che poi è andato a finire bene e abbiamo chiuso alle 14.50. Siamo entrati qui, ok, e abbiamo chiuso qui, non tanto ma portato a casa comunque, nonostante un movimento che mi aspettavo un pochino più ampio che non ha voluto essere più ampio. Fin dalla mattina sapevo che dato che la tendenza è fortemente a rialzo, chiuso lo short avrei fatto un reverse long e sarei andato long. Peccato solo che, uno, non l'abbia comunicato al gruppo, mi sono totalmente dimenticato, due, essendo con un cliente e successivamente immediatamente con un commercialista e con un'altra persona con cui potrei decidere di collaborare dal prossimo anno in avanti, un analista in gamba, mi è passato di mente. Sì, sì, abbiamo guadagnato qualcosa con lo short, certo non quanto potremmo aver guadagnato con il long che, mi dispiace, ci siamo fumati e che era un'operazione fatta, ok? Ok, uscendo dallo short ci si doveva solo semplicemente preparare per un long. Fortunatamente qualcuno nel gruppo in autonomia l'ha fatto perché la cosa bella è che quando si imparano le regole poi si può operare da soli anche, a proprio rischio e pericolo se magari non si è ancora preparati, ma con ottimi gains invece lo si è. Ieri sapevamo che qui poteva essere partito un sesto T-3 ma che potevamo essere serenamente anche a 40 bar. Abbiamo aspettato di capire in quale situazione potevamo capitare stamattina, tra l'altro, aveva un bel livello di algoritmo, sì, ho riattivato anche l'algoritmo. E' stato sfiorato e poi immediatamente abbiamo rimbalzato, non c'è stata opportunità di entrare e tra virgolette per fortuna perché qui con questa candela saremmo arrivati a 46 e quindi avremmo dovuto ragionare sul fatto che qui siamo già a 23 barre su minimo 24 e poi può scendere di nuovo un po' per ritornare a far partire che cosa? E' un settimo T-3 inverso, qui tra l'altro manca, da questo motivo è fondamentale ricordarsi una cosa, lo riguardate in tutti i modi possibili e immaginabili. Primo, no questa non ve la racconto, è troppo divertente. Allora primo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barre di inverso e il minimo di durata che può andare a chiudere, che cosa? Un bisettimanale inverso che quando chiude fa partire un settimanale inverso o un bisettimanale inverso. Quindi la spinta che mi aspettavo con l'analisi del weekend, perfetta, è arrivata. Adesso bisogna fare attenzione però, come si chiude un inverso con candela verde? E quindi dato che qui il tempo ormai è vicino per una possibile chiusura di 6 T-3 inverso, potrebbe anche partire in un settimo perché bisogna arrivare a fine giornata con una candela verde, se vuole essere questa la candela di chiusura dell'inverso e quindi se finalmente partirà un settimo T-3 inverso dopo il sesto, noi aspetteremo qualcuno dei livelli appunto di algoritmo, se verranno ritoccati, ritracciati, qui ne avete uno facile facile, e noi valuteremo di andare long sui minimi per quest'oggi, solo dopo che avrà chiuso però il sesto T-3 inverso e qui siamo soltanto a 23 bar, su minimo 24, in media 32, al massimo bla bla bla. Ragiono sempre di durate minime per dare avvisi rapidi. Qui è possibile che si sia fermato qua il quinto T-3 inverso, 1, 2, 3, 4, è anche possibile ma è difficile e manca la seconda condizione, abbiamo soltanto quella del tempo, questa le rispetta tutte. Quindi siamo a 23. Per quanto riguarda il MIB quindi attendiamo ancora un rialzo, un top superiore a questo, ai 22.322, per poi vedere quanto si ritraccia, se e quanto si ritraccia, e a quel punto ricomprare sui minimi l'indice e andare long per la chiusura o con barra blu o con barra verde della giornata o aspettare quelle successive. Per quanto riguarda il DAX, situazione similare. Anche qui il quinto T-3 inverso può essere arrivato a durare oltre le 44 barre? No, non può. E qui può essere partito da questa candela rossa un sesto T-3 inverso? No. Quindi la centratura corretta è questa, quella in cui qui parte il sesto T-3 inverso, il sesto ciclo giornaliero inverso. Siamo arrivati ampiamente oltre le 21, qui aspettiamo un ritracciamento, qui non vi faccio vedere neanche un livello di algoritmo perché sta ancora lavorando, e poi rivalutiamo di metterci long. Fatto un minimo, andiamo a prenderci. Lato indice, l'unico dubbio che ho è che se volessero fare... No, qui è Nasdaq, scusate. Allora, lato indice, l'unico dubbio che ho, ma ribadisco, parlo all'inverso con quella candela di cui parlavamo, è che qui siamo a 10 barre. Se non avessimo fatto 6 più 4, è una piccola possibilità, ma ripeto, l'inverso ha un obbligo. Quindi io mi permetto di seguire l'inverso, che parla in maniera più esplicita rispetto al MIB. Perché oltretutto preferisco rimanere long? Perché se avete guardato le analisi del weekend, gli scorsi sabato e domenica, su S&P siamo andati sopra questo massimo, su Nasdaq siamo andati sopra questo, quindi vi dico una cosa, guardatelo bene questo grafico del MIB, ok? E' cambiato qualcosina, si è passata la possibilità B. Chi ha seguito sa perfettamente di che cosa parlo. Su Dax, dove siamo arrivati? Anche qui abbiamo superato questo livello e abbiamo superato quest'alto swing. Salire, siamo saliti esattamente come da disegno. Altro non da raccontarvi. Allora, se volete, ci vediamo questa sera con Up&Down. Per il resto, vi ringrazio per il vostro tempo, stiamo crescendo tanto, mi raccomando, l'importante è studiare. Non esiste fare trading in 5 minuti su una app e diventare ricchi. Queste robe qua sono per gonzi, per favore fate attenzione a chi ve le propina ed eventualmente venite a raccontarci le vostre esperienze e progresse nei commenti sotto questo video. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. La mia lo sarà sicuramente perché ho già programmato i trade prima che le cose avvengano, in modo da poter avere tutto il tempo per gestirli con calma. Arrivederci!